Firenze è da sempre impegnata nello studio dei rischi del territorio e nella loro prevenzione. La nostra città è particolarmente vulnerabile per quanto riguarda i rischi naturali e per quelli antropici. Il rischio prevalente rimane quello sicuramente idraulico, dato dal fiume Arno, ma anche dai numerosi affluenti del reticolo minore che necessitano di particolare attenzione. Anche quest'anno la città di Firenze ha aderito alla campagna Io non rischio. Insieme ai colleghi del nostro servizio protezione civile, quotidianamente studiamo e analizziamo tutti i rischi a cui è soggetto il nostro territorio, per conoscerli e per migliorare la capacità di risposta in caso di emergenza. Studiamo i fiumi, ma non solo l'Arno, perché spesso i problemi possono nascere dai numerosi affluenti minori. valutiamo cosa possono provocare i numerosi eventi meteorologici che talvolta ci colpiscono, i terremoti storici e tutti i rischi che le attività dell'uomo possono introdurre nella nostra città, nel nostro territorio. Ma tutto questo non basta, perché per affrontare situazioni importanti come queste occorre lavorare in squadra. E il nostro intervento può funzionare solo se anche tu, insieme a tutti gli altri cittadini, sei consapevole dei rischi e sai come comportarti in queste situazioni. Per fare questo utilizziamo molti sistemi per comunicare informazioni, come le allerte meteo, ad esempio, comunicati stampa, le pagine dei social network, i sms, i nostri siti web, fino al sistema di allertamento telefonico Firenze Alert. Organizziamo anche iniziative e campagne informative realizzando pubblicazioni, materiale consultabile sui nostri siti, Città di Firenze e Protezione Civile Comunale, per spiegare, vedere, capire cosa ci circonda. L'esperienza, attraversata dal nostro Dipartimento Locale di Protezione Civile, in questi anni di emergenze, sarà fondamentale per il contributo che questa continuerà ad offrire in termini di assistenza ai cittadini, oltre che di crescita della cultura della prevenzione. Vorrei quindi approfittare per ringraziare di cuore la straordinaria rete di volontari e volontarie per l'impegno quotidiano nei servizi di protezione civile e per l'organizzazione anche di questa giornata. Insomma, un grande in bocca al lupo a tutte voi, a tutti voi. E grazie.